tanta roba tanta roba il nuovo acquisto dell'atalanta complimenti all'atalanta perché secondo me totalizza un acquisto veramente veramente quasi top per sostituire romero benvenuto popolo giallorosso e non in questo nuovo video prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale lasciate un like attivare la campanella mi raccomando così almeno cliccate su sto video e non vi perdete appunto i contenuti che parto sul canale seguiremi qua sotto in tutti i social tik tok e instagram mi raccomando cosa molto molto importante allora parliamo di l'ovato all'atalanta ha fatto tutto per l'ovato all'atalanta lo confermano e anche su one football quindi se non avete visto questa notizia scaricatevi one football perché di arrivare alla notifica delle tue squadre del cuore del tuo giocatore preferito e di altre squadre come come ho letto questa notizia su one football allora è l'ovato nuovo giocatore dell'atalanta praticamente tutto fatto se serve solo il contratto ma l'ovato vuole l'atalanta l'atalanta che chiude con un'offerta di 11 milioni più due e mezzo di bonus la necessità di di difendere il ruolo difensivo di difendere perché perché di occupare anzi il ruolo difensivo è la cessione di romero non ufficializzata assolutamente ancora però è fatta praticamente anche per quella si chiude intorno ai 55 50 milioni per romero al tottenham per sostituirlo prendono l'ovato allora è ovvio che la cifra dei due giocatori da uno che vale 55 a uno che lo prendi a circa 13 milioni compresi bonus 14 milioni e lo sicuramente il giocatore cambia categoria l'atalanta cambia categoria di giocatore scendendo di qualità sicuramente però l'ovato può crescere l'atalanta ricordiamoci che l'atalanta ogni volta vende i big perché l'atalanta se ti arrivano 60 milioni se offri 60 milioni l'atalanta l'atalanta non risponde mai no perché l'atalanta è una squadra che costruisce comprando giocatori a poco prezzo come questo di l'ovato che poi crescono li rivedi fanno plus valenza e poi comprano un altro giocatore a basso prezzo e questo è il ciclo dell'atalanta ormai da anni perché parliamoci chiaro è sempre stato così e lo sarà perché stiamo vedendo l'atalanta come ogni anno ci sorprende sempre di più tipo nelle mie prediction sempre settima la metto perché dice quest'anno non può far bene quest'anno ha venduto i giocatori quest'anno ha preso degli sconosciuti ma ogni volta questi sconosciuti diventano il pezzo forte anzi di questa squadra veramente una cosa eccezionale il progetto dell'atalanta che diciamo è l'unica squadra che non va mai in rosso perché vendendo questi giocatori e poi acquistando gente forte che poi cresce diventa ancora più forte a cinque volte il prezzo di meno è veramente un acquisto eccezionale l'ovato eppure giovanissimo e quindi può assolutamente esplodere con con l'atalanta come può far male non lo nego però l'atalanta di solito i talenti li sforna sempre prende i giocatori e li fa crescere e li fa crescere bene e anche lui se cresce e più avanti ci ricorderemo della cessione dobbiamo già pensare alla cessione di l'ovato nei prossimi anni dell'atalanta se dovessi diventare un giocatore completo perché ora già un giocatore forte che può ancora esplodere se poi dovessi diventare più completo e addirittura esplodere allora anche lì lo rivenderà anche lui lo rivenderà che acquistare l'atlanta direi romero invece che a qualche anno di più però è già maturo sicuramente l'ovato può fare degli errori però invece romero è già maturo va al tottenham e va nel campionato più difficile d'europa praticamente anche se se la giocano italia inghilterra e inghilterra però c'è da dire che l'ovato e aveva tante ma tante richieste da tante squadre e diciamo che quella più concreto è stata quella dell'atalanta che supera la concorrenza di un altro arrivale della serie a l'inter e quindi l'ovato valadea veramente un top 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 acquisto dell'atalanta e niente raga ah non scordiamoci che comunque il verona di difensori ce l'ha sempre avuti fuori da sempre giocatori giovani in difesa forti come con bulla che passa la roma fa una brutta stagione per infortuni vari però comunque al verona era un fenomeno ora bisogna vedere comunque con morigno se esplode con bulla ora invece vi ho trovato un altro pezzo forte e niente raga per questo video è tutto like, inscrizione e campanella ci vediamo al prossimo video ciao